buongiorno a tutti oppure buonasera come sempre dipende come tutto nella vita un po dipende io sono antonio vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana livello intermedio avanzato buongiorno a tutti da antonio benvenuti all'ultima lezione di ripasso del corso di italiano livello avanzato in questa lezione daremo uno sguardo ad alcuni modi di dire molto interessanti molto belli relativi al corpo umano senza ulteriori indugi vi chiedo subito di andare a guardare questo documento pdf intanto vediamo le parole che dovremmo conoscere in realtà che sono le parti del corpo umano abbiamo il cervello sappiamo che cos'è il cervello è vero giornale ecco questo è il cervello culo è proprio quello che si chiama pigu è un termine anche abbastanza volgare però è molto usato poi abbiamo il cuore a beh il cuore non c'è neanche bisogno di dirlo ovvero shin zang poi abbiamo il fegato il fegato sta un po più giù un po più in basso rispetto al cuore e il fegato è quello che si chiama proprio gan zang poi abbiamo il naso lo conosciamo è vero biz questo è il naso poi abbiamo l'orecchio o le orecchie arduo abbiamo il polso che significa show ones e poi abbiamo lo stomaco tuz o anche semplicemente way adesso proviamo ad abbinare queste parti del corpo umano con il verbo avere vediamo un po che cosa abbiamo la prima definizione dice significa essere sensibili nei confronti della musica una persona che è sensibile nei confronti della musica si dice una persona che ha orecchio quindi avere orecchio significa essere sensibili nei confronti della musica per esempio avere orecchio può essere qualcuno che per esempio la prima volta che ascolta una canzone può già capire quali sono le note di questa canzone la prima volta che ascolta una melodia capisce già quali sono le note di questa melodia poi andiamo avanti cosa significa essere fortunati cioè avere una gran fortuna questa cosa ve la dico io questa qua è proprio quella del termine volgare che abbiamo appena visto avere culo avere culo significa essere fortunati avere una gran fortuna e infatti per dire che fortuna si dice anche che culo poi abbiamo avere intuito cioè non sapere qualcosa però capire qualcosa da quello che succede e questa cosa qua questo essere capaci di intuire qualcosa semplicemente mettendo insieme una serie di indizi si dice avere naso quando si dice ho capito questa cosa qua andando a naso avere naso significa avere intuito avere capacità intuitive quindi riuscire a capire qualcosa mettendo soltanto insieme piccoli indizi poi che cosa abbiamo abbiamo essere capaci di sopportare cose sgradevoli che cos'è avere lo stomaco avere stomaco oppure spesso si sente qualcosa tipo avere uno stomaco di ferro oppure avere uno stomaco d'acciaio cioè essere capaci di sopportare cose sgradevoli sgradevoli magari non solo da mangiare ma anche da vedere o da subire a volte quindi questo è avere stomaco poi essere energici ed essere decisivi significa avere polso una persona di polso significa una persona che è energica e che è decisiva che prende le decisioni mentre se andiamo a vedere il corrispettivo cinese perché abbiamo detto che polso significa show once se lo mettiamo al cinese signo show once significa qualcosa del tipo avere tatto ok io la tradurrei così l'espressione cinese di signo show one è avere tatto mentre l'italiano significa essere energici e decisivi poi andiamo avanti avere coraggio significa che cosa aver fegato aver fegato significa essere persone coraggiose che non hanno paura di affrontare situazioni spiacevoli e che non hanno paura di fare cose che gli altri non osano fare poi essere generosi donare alle persone che ci sono vicine che cos'è è avere cuore ovviamente una persona a cuore significa che è una persona generosa al contrario una persona non generosa si chiama una persona senza cuore semplicemente e poi essere intelligenti vabbè qua ovviamente non serve neanche dirlo fa per avere cervello benissimo questi erano alcuni dei modi di dire connessi al corpo umano che usiamo spesso in italiano adesso ne analizziamo uno in particolare che è quello più volgare di tutti quello che abbiamo detto avere culo e vediamo un po che cosa significa leggiamo questo testo qua dobbiamo ricostruirlo mettendo insieme le parti mancanti con il testo nella posizione in cui appartengono vediamo un po allora intanto le cinque scelte che abbiamo sono uno i giovani dal sedere bello il sedere proprio quella parte che abbiamo detto si chiama culo in maniera volgare i giovani maschi col sedere bello poi due era indizio di una vita più facile eccetera eccetera poi tre li ricoprivano di regali cioè facevano a loro molti regali avere molta fortuna qui non c'è bisogno di spiegare e poi degli uomini potenti dell'antica roma leggiamo un po il testo e vediamo di completarlo grazie 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 era indizio di una vita più facile e più fortunata dei propri coetanei ecco qua noi sappiamo che nell'antica roma le persone avevano spesso cioè gli uomini avevano spesso rapporti omosessuali con ragazzi più giovani specialmente gli uomini potenti avevano rapporti omosessuali con ragazzini più giovani e di una casta inferiore di un ceto sociale inferiore quindi queste persone del ceto sociale inferiore e molto più giovani avevano diciamo il futuro assicurato a causa del loro aspetto fisico quindi per quello avere un bel culo significava avere una grande fortuna perché i ragazzi col bel sedere venivano scelti selezionati dai giovani potenti perché volevano avere rapporti sessuali con noi insomma come vedete l'omosessualità era una cosa molto comune molto tollerata nell'antica roma adesso andiamo avanti col prossimo esercizio in cui dobbiamo prima separare le varie parole che formano dei modi di dire sempre relativi al corpo umano e poi collegarli al loro significato alla loro spiegazione ovviamente io direi di partire prima dalla spiegazione e poi risaliamo al modo di dire prima spiegazione che abbiamo dice si dice di una cosa che per il colore o la forma non si abbina al contesto quindi qualcosa che è fuori contesto cioè per esempio se abbiamo un vestito tutto bianco con le scarpe bianche abbinarci una valigia blu e arancione mi sembra una cosa assolutamente fuori contesto una cosa che non ci sta proprio poi due sinonimo di subito immediatamente al più presto quindi qualcosa che facciamo subito all'istante poi tre significa avere fame questa è una cosa che possiamo capire già senza guardare le espressioni idiomatiche dovremmo già conoscerla comunque poi vediamo andiamo avanti quattro significa non avere il tempo di fare o finire delle cose importanti quindi quando ho delle cose importanti da fare da finire ma non ho il tempo userò un determinato modo di dire cinque si dice di qualcuno che ha un segreto di cui si vergogna quindi magari qualcosa che qualcuno ha fatto magari quando era più giovane di cui non vuole parlare e poi sei significa semplicemente avere paura adesso leggiamo queste sei espressioni che sono tutte collegate vediamo un po cosa significano allora prima cosa è avere l'acqua alla gola che ovviamente è avere l'acqua alla gola che cosa significa avere l'acqua alla gola avere l'acqua alla gola significa proprio avere tante cose da fare o tante cose da finire e non avere il tempo per finirle facciamo finta che tutte le cose che abbiamo da fare siano dell'acqua siano un mare ecco se io sono sommerso di cose da fare significa che quest'acqua è già bella profonda mi è già arrivata alla gola sto lì per smettere di respirare immaginatevi quando ho tante cose da fare questo è il modo di dire che userò poi andiamo avanti due essere un pugno in un occhio ovviamente essere un pugno in un occhio che cosa significa essere un pugno in un occhio essere un pugno in un occhio significa proprio un qualcosa che per colore o per forma non si abbina al contesto quindi per esempio abbiamo detto un vestito bianco se ci abbiniamo una valigia blu e marrone la valigia blu e marrone è davvero un pugno in un occhio è una cosa proprio che fa male agli occhi proprio una cosa che a vedersi fa davvero male ci fa fare che schifo quello è un pugno in un occhio immaginatevi quanto male può farci un pugno in un occhio è una cosa che è spiacevole da vedere perché non si abbina bene al contesto è proprio un pugno in un occhio poi tre in un batter d'occhio cosa qua dobbiamo dividerla con in un batter d apostrofo occhio in un batter d'occhio è un sinonimo di subito e immediatamente al più presto quindi faccio qualcosa in un batter d'occhio cioè la faccio subito poi abbiamo avere il cuore in gola avere il cuore in gola questo avere il cuore in gola sta per semplicemente avere paura qua dobbiamo immaginare quando si ha paura il nostro cuore batte in maniera abbastanza veloce è vero questo è il cuore in gola avere il cuore in gola oppure mi fa venire il cuore in gola oppure mi fa saltare il cuore in gola poi avere un buco allo stomaco questa qua è facilissima è vero qua si separa con avere un buco allo stomaco e ovviamente avere un buco allo stomaco significa avere tanta ma tanta ma tanta fame semplicemente poi sei avere uno scheletro nell'armadio qua si separa con avere uno scheletro nel armadio anche qua dobbiamo immaginarci questa cosa abbastanza visiva dobbiamo visualizzarla è vero oppure meglio ancora quando ho un qualcosa nell'armadio non voglio che questo scheletro venga visto dalle altre persone cioè non voglio che le altre persone sappiano che io ho questo scheletro e infatti lo nascondo nell'armadio che cosa significa allora nascondere lo scheletro nell'armadio o comunque avere uno scheletro nell'armadio significa semplicemente avere un segreto di cui ci si vergogna e avere qualcosa che non si vuole che si sappia che non io per esempio magari quando ero piccolo sono stato fidanzato con una determinata ragazza che poi è diventata bruttissima quindi non voglio che si sappia questa cosa qua oppure io magari da piccolo ero grosso ero grasso ero ciccione non voglio che si sappia tutte queste cose qua possono essere vari scheletri nell'armadio e adesso possiamo completare le frasi con questi modi di dire di questo esercizio 6 e facciamo anche le modifiche necessarie cioè se servono le modifiche le modifichiamo dice tra due giorni ho l'esame ma non ho fatto niente per tre mesi perché magari ho avuto qualcos'altro da fare quindi io arriverò all'esame come con l'acqua alla gola quindi qua possiamo mettere ho davvero l'acqua alla gola oppure ho proprio l'acqua alla gola poi andiamo avanti secondo me quasi tutti gli uomini di potere che cosa quasi tutte le persone importanti per esempio i politici italiani che cosa hanno hanno qualche scheletro nell'armadio qua può essere avere uno scheletro nell'armadio oppure anche avere qualche cioè più di uno qualche scheletro nell'armadio terza frase Marco ma sei ancora a casa? oh sì scusa arrivo lì in un batter d'occhio oppure si può dire anche in un battere di ciglia è vero? il shunzian questo è in un battere di ciglia in un batter d'occhio in cui le due ciglia si toccano e io arrivo questo è il batter d'occhio poi quattro io c'è niente in frigo? qua se si parla di cose da mangiare cose messe nel frigo ovviamente dice io ho un buco nello stomaco c'è niente in frigo da mangiare di pronto che posso prendere e mangiare subito senza aspettare poi andiamo avanti il maglione giallo sui pantaloni viola ecco qua immaginatevi che schifo un maglione giallo su dei pantaloni viola che cos'è? è una cosa che non si può guardare proprio è un pugno in un occhio 6 ieri siamo andati a vedere un film horror e per tutta la durata del film avevo che cosa? avevo il cuore in gola perché avevo tanta paura così tanta paura che il cuore mi è saltato fino ad arrivare in gola benissimo ho dimenticato di dirvi che questi esercizi erano tratti da un libro bellissimo secondo me che si chiama italiano per modo di dire scritto da Gianluca Aprile questi esercizi erano presi dalla prima unità che tratta per l'appunto del corpo umano è un libro del 2008 che secondo me è bellissimo se siete interessati compratelo perché penso si trovi anche su internet e adesso facciamo un esercizio di ascolto e di visione perché vi farò vedere un video chiamato Paolo Villaggio compie 84 anni sottotitolo Fantozzi sfigato e felice rende i poveri orgogliosi dunque questa è un'intervista realizzata in occasione dell'84esimo compleanno di Paolo Villaggio il creatore di Fantozzi e poi l'interprete dello stesso personaggio sul grande schermo al cinema è un'intervista in realtà molto breve e non particolarmente profonda nel senso che non si parlerà di temi particolarmente profondi ma si parlerà per lo più del personaggio di Fantozzi e della sua proverbiale sfortuna assieme al suo valore quasi di catarsi e di identificazione con lo spettatore italiano sia di 40 anni fa sia di adesso io prima vi faccio vedere il video e poi proviamo a rispondere a una serie di domande vai la prima cosa che vorrei farvi notare di questo video è un'immagine che si vede attorno al secondo minuto in cui viene spiegato e viene rivelato che il termine Fantoziano che è un aggettivo è entrato nel vocabolario della lingua italiana e vediamo un po' per cosa sta l'aggettivo Fantoziano ovviamente è un derivato di Fantozzi e dice di persona cioè si usa con le persone impacciato e servile con i suoi superiori per esempio quel collaboratore è proprio una figura Fantoziana cioè una figura particolarmente servile con le persone che sono in una posizione superiore alla sua oppure anche di accadimento cioè si può usare per descrivere un accadimento una situazione penoso e ridicolo una situazione Fantoziana che cos'è una situazione Fantoziana è una situazione che allo stesso tempo ci fa pena e ci fa ridere e partiamo proprio da qui da questo aggettivo dall'aggettivo Fantoziano la prima domanda che vorrei farvi è come spiega l'attore e scrittore Paolo Villaggio l'aggettivo Fantoziano ecco qui possiamo rispondere con le parole di Paolo Villaggio Fantoziano significa qualcosa che compensa la tua vita significa andare a cercare il motivo per cui sei povero e il motivo perché magari sei uno sfigato ma sei orgoglioso di essere un povero e di uno sfigato quindi Fantozzi da semplice maschera comica del cinema degli anni 70 è adesso diventato un personaggio molto amato infatti dice più amato adesso che 40 anni fa la seconda domanda è una domanda un po' più generica cioè qual è il carattere peculiare di Fantozzi secondo il suo autore beh sappiamo che Fantozzi è un personaggio non riuscito cioè uno sfigato in altre parole però sappiamo anche che la sua mancanza di felicità nei grandi eventi lo conduce a cercare la felicità nei piccoli eventi e per esempio per lui anche la vittoria della sua squadra di calcio preferita ecco quello che si chiama la squadra del cuore può essere motivo di grande felicità Fantozzi diventa felice per le piccole vittorie sopperendo così alla mancanza di grandi vittorie come può essere per esempio una promozione in azienda uno stipendio più elevato una vita sentimentale appagante eccetera eccetera poi andiamo avanti con la prossima domanda che è qual è secondo Paolo Villaggio l'uso più adatto e il momento più adatto per ascoltare l'audiolibro di Fantozzi vediamo che la prima cosa che dice è che ci scherza un po' su perché dice magari si può ascoltare di notte in macchina si può ascoltare in cesso cioè al gabinetto quando uno va in bagno prende e si ascolta Fantozzi vabbè questo ovviamente sta scherzando però la cosa seria è ascoltarlo nei momenti in cui ci si sente un po' giù nei momenti in cui ci si sente un po' tristi perché in quel momento là si ha la vera identificazione dell'ascoltatore col personaggio di Fantozzi nel momento in cui ci si sente molto sfortunati si ascolta Fantozzi e ci si rende conto che in quel momento essere sfortunati può essere una gran fortuna poi chiediamo l'ultima domanda che secondo Paolo Villaggio adesso chi è Fantozzi e Paolo Villaggio semplicemente non risponde ma fa soltanto un gesto indica con il dito della mano destra l'intervistatore dicendo però non si offenda all'intervistatore l'intervistatore risponderà no no è un onore adesso posso anche spiegarvi perché in questo breve filmato gli viene regalato il dvd di questo film di propaganda sovietica chiamato la corazzata Potjomkin diciamo che se non si è visto il film il secondo tragico Fantozzi è difficile capire l'ironia di questa scena dunque nel film succede questo il capo della ditta in cui lavora Fantozzi è un appassionato di cinema tedesco e russo del primo dopoguerra e invita anzi forza spesso tutti i dipendenti dell'azienda a partecipare a visioni di questi film seguiti da una discussione sui tratti estetici e sul significato dei film succede però che proprio in un giorno in cui c'è questa attività di cineforum c'è anche la partita della nazionale di calcio italiana e tutti gli impiegati vorrebbero rimanere a casa a guardare la partita dell'italia però vengono richiamati subito dal direttore ecco perché alla fine di questa scena Fantozzi pronuncia il suo ormai leggendario per tutti gli spettatori italiani per me la corazzata potiomkin è una cacata pazzesca a cui seguono i famosissimi 92 minuti di applausi perché tutti i dipendenti della ditta sarebbero rimasti volentieri a casa a guardarsi la partita dell'italia però sono stati richiamati di forza dal direttore e Fantozzi ha trovato finalmente il coraggio di dire che secondo lui la corazzata potiomkin è un film che fa schifo però come visto anche in questo breve filmato Paolo Villaggio è in realtà un ammiratore di questo film e infatti in quella scena di Fantozzi lui non criticava il film in sé ma criticava tutti quelli che si fingono intellettuali e che guardano soltanto i film cosiddetti impegnati io direi che per questa lezione possiamo fermarci qui per questo ripasso possiamo fermarci qui penso che questo sia stato un bel corso e ho tentato di renderlo quanto più divertente potessi il saluto speciale che voglio farvi questa volta qui è semplicemente un augurio di buon italiano buon italiano a tutti voi ciao a tutti Grazie a tutti